La campanella è finalmente suonata di nuovo, bimbi tutti a scuola, nella speranza che si possa concludere il 2021 interamente in presenza, perché nulla può sostituire il contatto umano, specialmente se si tratta di scuole. Siamo stati gentilmente ricevuti dalla presidenza della scuola elementare Carducci, dove preside e vicepreside raccontano le difficoltà, l'impegno e le speranze per l'anno scolastico, da affrontare con responsabilità e soprattutto tanta fiducia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon anno. Le nostre aspettative sinceramente sono buone, nel senso che fino ad ora la scuola possiamo dire proprio che ha funzionato, anche perché i casi tra i bambini sono stati veramente pochissimi e quindi anche in proporzione alla popolazione della nostra scuola, le classi che abbiamo dovuto mettere in quarantena perché magari c'erano degli adulti a casa che avevano contratto il virus, è veramente bassa. Quindi noi speriamo che se il sistema continua a funzionare di riuscire, almeno per quanto riguarda i bambini della primaria, sicuramente a finire l'anno in questo modo, perché comunque in questo primo periodo abbiamo visto che ha funzionato tutto. I bambini sono molto attenti, rispettano tantissimo le regole e quindi noi siamo veramente tranquilli, la scuola è super controllata, super pulita, quindi stiamo tutti lavorando per far sì che questa cosa possa continuare fino alla fine dell'anno in questo modo. Sì, prima di tutto sempre i bambini, la scuola, cari bambini, è aperta per voi. Noi siamo una scuola, la scuola è un servizio sociale, si dice, quindi ecco, perché il servizio sociale è in funzione vostra, quindi bentornati, ben ripresa la vostra corsa, indubbiamente, perché la nostra vita è in un grande treno, ecco in sostanza, e noi siamo pronti quindi a continuare. Ovviamente dipende da tutto da noi, quindi anche da voi, insieme ce la possiamo fare, quindi manteniamo sempre le regole, regole che vuol dire comportamento, puliamoci sempre le mani, ovviamente cerchiamo di mantenere le nostre distanze, la mascherina, ecco queste semplici regole, cari bambini, ci consentiranno di portare avanti tutto l'anno scolastico e per ora devo dire grazie, ce l'avete proprio messa tutta e quindi siete veramente in gamba, grazie tantissimo. Per tutto per quanto riguarda poi i genitori, ovviamente bentornati anche voi, perché ovviamente vedo che al mattino moltissimi di voi accompagnano ovviamente i loro figli, quindi la scuola di base è sempre una scuola con molta partecipazione dei genitori e so che avete fatto tanti sacrifici, ovviamente anche quando avete mantenuto i bambini a casa, quindi la collaborazione in questo senso è fondamentale, quindi se ci sono dei primi sintomi, ecco proprio per collaborare tutti insieme è meglio stare a casa qualche giorno per verificare che questi sintomi non siano altro e quindi insieme, quindi possiamo continuare e non interrompere quindi le lezioni in questo senso. Ma ho visto che anche voi avete comportato, vi siete comportati rispettando questa regola indubbiamente. Ecco vi chiedo solamente di continuare a fare. In ogni caso tanta salute per tutti e collaborazione che riusciremo sicuramente a concludere tutto insieme per questo grande anno sicuramente. Grazie mille.